Con il provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura che mantiene nel Tribunale di Gera l'unico giudice che nella fase dibattimentale può trattare procedimenti penali che provengono dall'udienza per eliminare, la città giolese conserva una garanzia per il diritto. Lo dice il sindaco Domenico Messinese commentando la revoca dell'applicazione extra distrettuale al Tribunale di Catania dell'unico giudice monocratico del Tribunale giolese disposto dallo stesso CSM lo scorso mese di dicembre. Un pericolo scongiurato dice il primo cittadino per un territorio di frontiera come il nostro e per centinaia di procedimenti penali in tema di ambiente lavoro in attesa di giustizia. Lo Stato si è ricordato che Gela è una città di frontiera dove la presenza dello Stato è fondamentale. Questo fa onore al CSM che ha attenzionato le problematiche nel nostro territorio. Un Tribunale che rappresenta un presidio di legalità, un Tribunale con tantissime difficoltà di personale. Questo ultimo rasterimento avrebbe ancora creato dei seri problemi, soprattutto compromesso anni di lavoro e di attività su processi importanti anche a livello ambientale e di tutela della salute pubblica. Quindi un plauso perché sicuramente un'analisi più attenta ha dimostrato che Gela forse deve essere più potenziata che invece di essere ridimensionata. Un passo importante grazie anche alle spinte fatte dal Presidente del Tribunale, ma credo che è comunque un atto dovuto per una città che in questo periodo sta soffrendo parecchio.